Ho notato che la registrazione sarà spenta, quindi divideremo il video in due parti Inaspettato Ok, perfetto, non l'immaginavo, molto aspettato B La conosci la B? Gussatemi se è un pochino il mio arancello perché tu fai la prima elementare? Sì Ecco perché, ecco la risposta che vi ha dato Se qualcuno se l'ha domandato Ovviamente faremo anche un'altra serie Sullo stesso tema, soltanto dove giocherò io Allora, la serie durerà anche magari due episodi Dato che io il gioco l'avevo completato tipo in un giorno In due giorni precisi Per contare che quando l'ho comprato Era sera E ho fatto tipo un quarto No, tre quarti di gioco In cinque secondi Perfetto Siamo alla fine del livello Ed alto Perfetto Guarda quanto l'ho fatto Dai, io faccio il doppio Ok, bene Spero che il video Ok, continuo ancora Finito? Premia? Ok, è finito Spero che il video vi sia piaciuto E Bene a tutti ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto